Mettere in sicurezza la nave per salpare, motori a massima velocità, bersaglio individuato, nave militare 1 0, 12 mila metri, bersaglio individuato, cazzo a torpe di nieve 1 0, 15 mila metri, in maniera per la punta di 3040 Guardi. Guardi. Il progetto è leggero. Sì. Il nemico smonti e perde velocità. Il saldo individuale. Progetto è leggero. 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 Progetto. Progetto è leggero. Grazie a tutti. 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 Aventi! Diecimila metri! Ehi, stiamo dominando il nemico! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Donare il discompartimenti allagati! Corso diretto! Corso diretto! Controli! Abbiamo dei danni per riparazione dei danni per riparazione delle parti! avvicini per riparazione delle parti! Nave da battaglia! Nave da battaglia! Abbiamo di battaglia! Abbiamo subito! Abbiamo subito i danni! Abbiamo subito i danni! Satori leggero! Satori leggero! Avanti! Seimila metri! Satori leggero! Satori leggero! rifles leggero! Satori leggero! Satori leggeri! Aventi! Satori leggero! UITER! Mettico colpito! Bersaglio colpito! Bersaglio colpito! Ticone a ribordo! Sì signore! Tirare in ticone! Nave da battaglia! Avanti! 8000 metri! Odori a tutta velocità! Guardiamo subito danni! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Svuotare gli scompartimenti allanati! Il nemico sta vincendo! Corpo diretto! Scenore da battaglia! Altri bordo! Corpo diretto! Attaccare il punto B! Mettico colpito! Abbiamo subito danni! Nave da battaglia! Avanti! 7000 metri! Bersaglio in fiamme! Attenzione alla zona disegnata! Sì! Attenzione alla zona disegnata! del reticolato! Nelvico colpito! Introciatore da battaglia! Altri bordo! 5 milioni! Abbiamo subito danni! Allora! Perfetto! Bersaglio individuato! Incrociatore leggero! Bussola! 8-0! 7000 metri! Bersaglio individuato, incrociatore da battaglia 6-0 5-0 Colpo diretto Incrociatore da battaglia Avanti! 8.000 metri Bersaglio individuato, incrociatore da battaglia 6-0 4.000 metri Colpo diretto Il nemico si inclina e perde velocità Non ci siamo, il nemico ha preso l'iniziativa Incrociatore leggero A tribordo 5.000 metri Attaccate il nemico Controllo dei danni per riparazione delle parti Vuotare gli scompartimenti allagati Timone a tribordo Tirare a tribordo Bersaglio individuato Nave da battaglia Bersaglio 2-0 5.000 metri Abbiamo subito dati Introciatore da battaglia Introciatore da battaglia Rivoli 6.000 metri Qualcuno lo attacchi Nave da battaglia Avanti 4.000 metri Bersaglio individuato Bersaglio colpito Bersaglio Simone Tirare tutto a tribordo Tutto a tribordo Sì signore Oh no Abbiamo subito danni Nenico colpito Bersaglio individuato Bersaglio individuato Riparare le parti Iniziare il controllo dei danni Abbiamo subito danni Timone A mezza nave Incrociatore leggero 2.000 metri Sennico colpito Portazione di riparazione Iniziare il controllo Iniziare il controllo A bordo Un controllo dei danni E la preparazione delle parti Vuotare il dispostante Nel piano A bordo Un controllo dei danni E la preparazione delle parti Sennico Sennico Contrimoto Tutto a bordo Abbiamo subito Abbiamo subito Abbiamo subito Attacco aereo Bersaglio individuato Incrociatore da battaglia 1, 2, 0 7.000 metri Corpo diretto Bersaglio distrutto Abbiamo subito Abbiamo subito Abbiamo subito Abbiamo subito Abbiamo subito 2.000 metri Colpo diretto Abbiamo subito Abbiamo subito i dati! 3.000 metri! Abbamorto! Simone, tutto abbamorto! Con progetto! Versaggio destro! Indrociatore leggero! Avanti! 1.000 metri! Riparare le parti! Iniziare il controllo dei dati! Chivone a mezza nave! Chivone a mezza nave! Sì signore! Postazioni di riparazione! Inclinazione! Versaglio individuato! Caccia col peiniere! Rotta! 6-0! 3.000 metri! Postazione di riparazione! Inclinazione dirittica a bordo! Sì! Il controllo distrutto! Incrociatore leggero! A bordo! Sì! Sì! Controllo dei dati alle squadre antincetti! Controllo degli scompartimenti insieme! Sì! Sì! Perfaglio individuato! Il controllo leggero! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Svuotare gli scompartimenti allagati! Svuotori! Arresto totale! Perfaglio individuato! Faccia di riparazione delle parti! Svuotare un'attività! Scolciatore pesante! Inclinazione di riparazione dell'intuosity! Cercat! Versaglio individuato! Perfaglio individuato! Sop! Inclinazione di riparazione del pliniale! A controllo di vado, andiamo subito, tanti, credici! Motori, arresto totale! Motori, arresto totale! Mi è colpito, arrivi con il colpito! Controllo dei dati, per riparazione delle panni! Vuotare gli troppo attività da Gatti! Adorno al saldo, avviamo un riso danti, credici! A parte, è il tuo aereo! Controllo, abetti, binemente! Persaglio, colpito! Versaglio individuato! Copardieri! Pronta! Nemico colpito! A parte! Attacca! A controllo di un baldo! Abbiamo subito d'anni e gritti! Grave e governi! Stato giurdo! Trevi e me! Ostrazioni! Abbiamo subito d'anni e gritti! Motori! Arresto totale! Versaglio individuato! Incrociatore pesante! Bustola! Trovato da! 500 metri! Versaglio individuato! Incrociatore leggero! Bustola! Trovato da! 500 metri! Incrociatore leggero! Versaglio a finta! Controllo dei dati per riparazione delle parti! Ripetinare! Inizio dei dati per riparazione delle parti! Nemico colpito! Ostrazioni di marzioni! Abbiamo subito d'anni e gritti! Controllo dei dati per riparazione delle parti! Vuotare i compartimenti allagati! Versaglio colpito! Versaglio colpito! Versaglio individuato! Versaglio individuato! Incrociatore leggero! 5.000 metri! Ostrazioni di riparazione! Abbiamo subito danni credici! Controllo dei danni per riparazione delle parti! Calare le scialuppe di salvataggio! Abbandonare la nave! Fermi! Sì! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.